ciao a tutti sono simone di simone dietro l'iphone che stiamo realizzando con l'iphone c'è simona e sto sforzando di non ridere non ce la fai mai questa maglia è un omaggio d'alflife mi chiedete perché fai un omaggio d'alflife perché mi piace l'alflife ma soprattutto perché ho comprato un pacchetto su steam che l'offera te l'ha regalato a tipo 3 euro e 50 con dentro half life 2 episode 1 episode 2 e brutal 1 e in più c'è black mesa non è inclusa nel pacchetto ma è gratis che è il remake di half life 1 con la grafica di half life 2 e volevo chiedere a voi che ci seguite grazie siete quasi 500 siete una varia volevo chiedere a voi per darvi la possibilità di scegliere cosa vedere quale di questi giochi vorreste vedere giocato da noi o se ne volete vedere a tutti con quale dobbiamo iniziare con black mesa direi a occhio e che tipo di video volete vedere cioè con poco editing con molto editing con la facecam senza facecam con la facecam e se volete che giochiamo tipo insieme sono io sono lei un po' io un po' lei insomma fateci sapere cosa volete come lo volete e quando lo volete e quando lo volete anche alle frequenze degli episodi massimo episodio della settimana secondo me sì nei commenti mettete mi piace iscrivetevi condividete quanto ci sapere insomma ciao non devo dire fin quanto resisti ciao no 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 Grazie a tutti.